L'impegno del servizio idrico integrato per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, strumenti, progetti e soluzioni tecniche. Su questi temi si è aperto stamani l'evento nazionale giunto all'ottava edizione organizzato da Servizi a Rete in collaborazione con Gori e S.P.A. per presentare storie di eccellenza, le testimonianze delle utiliti italiane in merito agli strumenti, progetti e soluzioni innovative per la gestione del sottosuolo. Due giornate oggi e domani ad Ercolano a Villa Campolieto dove la Gori ha accolto per l'evento tecnico-scientifico dedicato al mondo del servizio idrico integrato i principali gestori insieme alle aziende produttrici di tecnologie, applicazioni e soluzioni innovative mettendo a fattor comune le proprie competenze. I lavori sono stati aperti con i saluti istituzionali del presidente di Gori Sabino De Blasi, del sindaco di Ercolano Ciro Buonaiuto e del vice direttore generale del gruppo Acea Giovanni Papaleo. Dopo il passaggio di testimone tra Aceato, due utility ospitante dell'anno scorso e Gori, utility ospitante di quest'anno, il primo confronto su una vision condivisa per il rischio siccità. Noi come Gori siamo impegnati appunto a ridurre le perdite, in realtà siamo anche molto impegnati su un altro versante che è Energie per il Sarno perché contiamo di appunto bonificare il Sarno entro il 2025 e di restituire la fascia costiera sorrentina interamente balneabile. Per quanto riguarda invece l'impegno sulla riduzione delle perdite, noi contiamo di ridurre queste perdite che erano due anni fa del 52%, contiamo di portarle quest'anno al 34% e già il dato di agosto è confortante perché ci parla di un 35% e poi entro il 2025 scenderemo al 27%. In questo siamo stati supportati molto dalla regione e anche in particolare poi per le problematiche del Sarno e anche da finanziamenti europei e nazionali perché abbiamo avuto 50 milioni di euro dal RHTU e 50 milioni dal PNRR, quindi un grazie alle istituzioni, un grazie all'ente idrico campano che ci supporta in tutto questo e alle amministrazioni locali che collaborano con noi perché noi poi andiamo a intervenire sul territorio, mettiamo dei blocchi di traffico, però le amministrazioni locali e anche i cittadini sono molto consapevoli dei risultati che dobbiamo raggiungere ci dando una mano tutti quanti. Ercolano ha dimostrato di essere una città accogliente anche stamattina ed è importante che ad Ercolano proprio si discuta di un tema così delicato, quello ambientale. Negli ultimi anni abbiamo fatto passi da gigante, a Ercolano grazie agli investimenti di Regione Campagna e di Gori abbiamo il mare balneabile, ad Ercolano tra qualche giorno inizieranno i lavori per dotare tutta la zona alta dell'impianto fognario. Chi non vive in queste terre pensa che stiamo parlando di qualcosa di scontato, ma chi combatte qui ogni giorno come noi sa che sono risultati incredibili. Tutelare l'ambiente significa tutelare il futuro dei nostri figli e noi ce la stiamo mettendo davvero tutta. Tre le sessioni tematiche nel corso delle quali si susseguono gli interventi tecnici delle utility affiancate da propri partner tecnologici con cui hanno avuto collaborazioni di successo. In primis la digitalizzazione della rete idrica e riduzioni delle perdite, interventi e tecnologie per la resilienza delle infrastrutture, i modelli sostenibili con il completamento degli schemi fognari e depurativi con la nascita delle fabbriche verdi. Lo sforzo che bisogna fare per incrementare questa attività è continuare ad investire in tecnologia e soprattutto pensare che questo è un processo produttivo a tutti gli effetti, non interrompibile e quindi deve essere dotato di una serie di sensoristiche IoT e soprattutto poi anche di intelligenze umane per cercare di individuare le migliori pratiche per ridurre le perdite. Ridurre le perdite non è una banalità, nel senso che non tutte le perdite affiorano e al fenomeno delle perdite fisiche è associato anche un fenomeno di perdite commerciali, nel senso che molti clienti sono sconosciuti, ci sono degli abusivi e c'è anche un uso improprio dell'acqua, soprattutto in agricoltura e quindi ridurre la percentuale di perdite passa attraverso sicuramente investimenti industriali ma anche attraverso una migliore gestione delle anagrafiche e all'individuazione di usi impropri della risorsa. Noi sarebbero, oltre a un momento importante di condivisione e aggregazione, un momento in cui possiamo testimoniare a tutti i sud Italia e tutta l'Italia dei risultati straordinari che sta mettendo in campo il nostro distritto, quindi mai occasione capita in maniera più opportuna. Pensate che noi stiamo mettendo in campo un progetto che si chiama Azioni per l'acqua che ci permetterà e già ci sta permettendo di dimezzare del 50% tutte le perdite idriche sul nostro territorio. Questo equivale a tutta la risorsa idrica che oggi è fondamentale, oggi parliamo anche di siccità, a un contenimento delle bollette che già stiamo mettendo in campo con il blocco delle tariffe fino al 2032 ma soprattutto con una riconciliazione forte tra gestore, ente di governo che siamo noi e i cittadini che sempre con più orgoglio devono guardare quanto noi stiamo facendo. Oggi noi celebriamo qui in Campania non solo un evento che mette insieme tutti i gestori, ma celebriamo il fatto che finalmente il Sud Italia, un gestore del Sud Italia possa guardare con orgoglio e comprimato a tutta la nazione per il lavoro che sta facendo.